Il vincitore è pronta la maglia, è pronta la coppa e poi naturalmente avremo anche lo spumante I nostri ospiti tra poco consegneranno tutti i premi al vincitore Aveva il dorsale numero uno quest'oggi, era uno dei favoriti, dei grandi favoriti Corre per la tutti e ruota i cicli montanini, Lazio, lui arriva proprio dalla capitale, Laziale, di Roma La classe 1996, secondo anno tra gli allievi e la dodicesima vittoria stagionale per il campione italiano Vince la Coppa d'Oro 2012, Daniel Marcellisi Il titolo italiano conquistato domenica, primo luglio a Piove di Soligo E attenzione, attenzione, una salita sul podio, un po' così Assieme al direttore sportivo, Iorio Nunziata Alessandro Bertolini consegna la maglia di vincitore al direttore sportivo della tutta ruota cicli montanini, Lazio, Iorio Nunziata